Il professore ed io siamo anche in video. Quello che stai per ascoltare è un assaggio di Il Menù di Doi. Guarda l'intera puntata sul canale One Podcast di YouTube. Alberto, tu hai fatto molto rumore dicendo che se volessimo mangiare il parmigiano che mangiavano i nostri nonni, noi dovremmo andare nel Wisconsin. Cosa significa? Questa è una storia molto complicata, il formaggio ha avuto una storia molto complicata. Il parmigiano si è evoluto molto nel corso dei secoli. Quello di cui parla Boccaccio sostanzialmente era un formaggio che poteva anche essere simile a quello che mangiamo oggi ma prodotto in forme molto piccole, si parla 7, 8, massimo 10 kg. Oggi una forma di parmigiano arriva a 40-45 kg, quindi stiamo parlando di un formaggio anche dal punto di vista estetico completamente diverso. Però rimane il fatto che questo formaggio era sostanzialmente più grasso, anche più morbido perché poi la conservabilità era diversa rispetto a quello che mangiamo noi oggi. Quello che noi mangiamo oggi è un formaggio che si è evoluto in maniera consistente a partire dagli anni 60, soprattutto anni 70. Per questo io dico che il parmigiano dei nostri nonni è più simile al parmesan del Wisconsin, perché il famigerato parmesan del Wisconsin che quando si parla di Italian sounding salta sempre fuori il parmesan del Wisconsin. Sembra che sia secondo molti un prodotto di contraffazione che richiama il nome del parmigiano per vendere un prodotto molto invece peggiore, scadente. In realtà questa è una storia interessante perché siamo noi italiani che lo portiamo nel Wisconsin, sono emigrati italiani i primi caseifici, quelli più antichi, che hanno grosso modo 100 anni, perché stiamo parlando degli anni 20, gli anni 30 e del 900, sono caseifici fondati da italiani o comunque gestiti da italiani. Con nomi italiani? Con nomi assolutamente. Magnani, rossi. Esatto, con nomi padani mi verrebbe da dire, che quindi più o meno facevano il formaggio come si faceva da queste parti e lo chiamano esattamente con il nome più reputato, diciamo così, perché parmigiano era ancora un nome molto reputato e quindi lo chiamano però ovviamente dando una declinazione inglese, quindi non parmigiano ma parmesan. Più o meno la stessa cosa fanno in Sud America, in Argentina si inventano il reggianito, che è l'altra parte del parmigiano reggiano, che il nome è doppio. E quindi sostanzialmente questo è quello che succede e più o meno siamo nello stesso periodo. Dunque possiamo dire che non sono storie di contraffazione, ma sono storie di affermazione di italiani che sono andati nel Wisconsin, lo stato del latte americano, magari hanno lavorato per anni come alle dipendenze di imprenditori del latte e del luogo e poi si sono messi in proprio, hanno realizzato con i propri caseifici il formaggio più simile a quello che loro conoscevano. Sì, se vogliamo è una storia di riscatto effettivamente da parte di questi emigrati, quindi è anche una storia molto bella ed è una storia di un know-how che viene trasferito dall'Italia agli Stati Uniti e ripetisco anche a Sud America. Quindi non c'è niente di imitativo da questo punto di vista e non c'è la volontà di togliere uno spazio di mercato, perché cento anni fa il parmigiano reggiano in America non ci arrivava se non in quantità assolutamente irrisorie, però la reputazione c'era e il nome era importante e quindi viene portato questo prodotto, viene inventato negli Stati Uniti, reinventato negli Stati Uniti mantenendo questo nome. Il problema è che la ricetta del parmesan è molto più simile alla ricetta del parmigiano reggiano di cento anni fa rispetto a quella del parmigiano reggiano di oggi che si fa in Italia, che si fa nelle province di Parma, Reggio, Modena, Manto e Bologna, ecco questa è la zona nella quale si fa il parmigiano reggiano, però si è molto evoluto il prodotto, è completamente cambiato negli ultimi 50 anni, ci sono tantissime testimonianze di immagini fotografiche, c'è anche una scena in un film, il compagno Don Camillo, dove si vede com'era il parmigiano reggiano con la crosta nera, rigorosamente con la crosta nera, come del resto ha ancora oggi il parmesan. Quindi la crosta nera che fra l'altro era nera per motivi di conservazione, si metteva sopra questa cera che in qualche modo doveva favorire la conservazione del prodotto, poi le tecniche di conservazione e di caseificazione sono assolutamente migliorate e quindi non è più stato necessario, anzi a un certo punto è diventato vietato usare la crosta nera. Però fino agli anni 70 ancora ci sono le immagini del compleanno di Pavarotti nel 1975 a Modena, dove c'è una forma di parmigiano reggiano molto più piccola rispetto a quella che conosciamo oggi e completamente nera, perché questo era il modo nel quale si faceva il parmigiano reggiano fino a 50 anni fa. Quello che hai ascoltato è un assaggio del menù di Doi. Guarda l'intera puntata sul canale One Podcast di YouTube.